In occasione delle feste natalizie quest'anno ho scelto questa modalità per riuscire a raggiungere tutti e ciascuno. Stiamo per lasciarci alle spalle un anno ricco di esperienze positive per il nostro istituto. Ma tutti sappiamo che per il mondo della scuola il 2010 è stato un anno con molte novità e con non poche difficoltà. Ringrazio per questo veramente tutti per la disponibilità alla collaborazione e al dialogo che ci ha consentito di lavorare bene insieme e raggiungere degli ottimi risultati. Auguro a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri cari un Natale sereno e un 2011 ricco di speranze e di successi. Buon Natale, buon 2011 a tutti voi.